Buongiorno a tutti, in questo breve video facciamo una panoramica di come preparare VisoStudioCode per svolgere correttamente il primo laboratorio. Alcune di queste informazioni saranno anche utili ovviamente nelle prossime settimane, man mano che proseguiremo col corso. Allora, io ho aperto VisoStudioCode e ho una cartella qui sul desktop che ho chiamato test, che è la cartella che conterrà i nostri file JavaScript da eseguire. In particolare nel nostro caso noi vogliamo in questa cartella test e all'interno di VisoStudioCode sviluppare un programma che legga da linea di comando e quindi modifichi un'impostazione di default di VisoStudioCode. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto quello che dobbiamo fare è aprire una cartella. Quindi noi abbiamo questa cartella test e VisoStudioCode di default non ha nessuna cartella aperta. Noi possiamo o dal menu welcome o cliccando su questa barra laterale utilizzare il bottone apri cartella. Allo stesso modo possiamo anche utilizzare open dal menu file. Sono tutte funzioni equivalenti. Quindi apriamo una cartella e apriamo questa cartella che abbiamo chiamato test sul desktop. Aprendo la cartella VisoStudioCode si ricarica e ci mostra qui il nome della cartella aperta che ovviamente non ha alcun file. Al suo interno provvediamo a creare un nuovo file con questo bottone, nuovo file, che possiamo chiamare esercizio1.js. Questo creerà e aprirà ovviamente un file javascript. Ora noi dobbiamo utilizzare readLineSync. Quindi prendiamo per esempio un esempio da readLineSync di esecuzione, un caso semplice, per esempio questo. Copiamolo e riportiamolo qui dentro. Ovviamente facciamo le modifiche che sono necessarie e che vogliamo fare per il nostro corso. Quindi prima di tutto useStrict. e in secondo luogo rimpiazziamo questi var con o dei const o dei let. Ora, se noi proviamo a eseguire, salviamo, se noi proviamo a eseguire questo, run without debugging, lui ci lancerà un errore. Il primo errore che ci lancia è non posso trovare il modulo readLineSync. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo installare giustamente il modulo readLineSync, esattamente come era anche suggerito nel testo del laboratorio. Quindi andiamo sul terminale e assicuriamoci di essere all'interno della cartella, in questo caso vedete test. Potete anche digitare pvd e vedere esattamente in quale percorso siete. Ma se avete aperto una cartella dovreste essere già correttamente all'interno della cartella. A quel punto possiamo digitare npm install redline sync. npm install redline sync installa la libreria, il modulo redline sync, in maniera locale rispetto alla cartella. Ecco perché è necessario essere all'interno della cartella test, perché npm installerà le dipendenze, in questo caso la libreria, all'interno di questa cartella e lo metterà a disposizione a tutti i programmi javascript che saranno in esecuzione all'interno di questa cartella, che saranno lanciati dall'interno di questa cartella. Quindi installiamo e notate che quando l'abbiamo installato ci crea un nuovo file che si chiama package.lock.json e una cartella che si chiama node modules che all'interno avrà proprio la nostra redline sync.javascript. Quindi se ne volessimo potremmo anche aprirla, andare a leggere il contenuto di redline sync, andare a cambiarlo eccetera, perché effettivamente la libreria è scaricata in locale sul nostro computer all'interno della cartella. A questo punto abbiamo installato la dipendenza, questa dipendenza che adesso qui andiamo a importare, a richiedere per il resto del programma, quindi possiamo riprovare a fare run senza debug. E vedete che ci lancia un'altra eccezione che dice che il TTY non è configurato e in particolare l'ambiente corrente non supporta una lettura interattiva dal TTY, dal terminale. Questo perché la debug console in Node.js di default non supporta l'input e la debug console di Node.js ha l'avere questa limitazione, non è tanto Visual Studio Code. Lo stesso programma in WebStorm, se deve girare nella debug console, presenterà lo stesso problema. Come possiamo risolvere questo problema in Visual Studio Code? In Visual Studio Code possiamo aprire il menu run, l'equivalente è dal menu run che vedevamo in alto, e se ne facciamo di nuovo run in debug, esegue lo stesso codice in modalità debugging e quindi genera lo stesso problema. Quello che dobbiamo fare per ovviare a questo problema è dire a Visual Studio Code di non usare il debug console per eseguire il file, il programma, ma di usare il terminale. Allo stesso modo noi potremo scrivere node.js1.javascript, sempre facendo attenzione ad essere nella stessa cartella, e vedete che invece dal terminale il programma funziona correttamente. Quindi per far sì che questa modalità di funzionamento, che è corretta in quanto funziona, invece di lanciarla in maniera manuale, vorremmo farlo lanciare da Visual Studio Code, dobbiamo creare questo launch.json file. Questo launch.json file è un file di appunto lancio, di configurazione, vedete il menu run, questo menu lateral run come è cambiato, appena ho creato un launch file, che appunto evidenzia alcune proprietà dell'avvio, dell'esecuzione di un programma. In particolare per far funzionare il file da, il programma non da debug console ma da terminale, dobbiamo aggiungere un console, due punti, integrated terminal, separato da virgo. Quindi queste sono proprietà, coppie chiave valore, che Visual Studio Code interpreta e quindi saprà, vedete c'è anche un commento, dove lanciare il debug target, che è anche quando facciamo run senza debug, dove lo lancia, lo lancia sul terminale integrato da Visual Studio Code, che è esattamente questo. Un'altra modifica che possiamo fare è, per esempio, qui invece di mettere es1.javascript, se noi pensiamo di creare, di voler lanciare più file con la stessa configurazione, possiamo invece di es1.javascript scrivere dollaro file, questo vuol dire che questa launch configuration si applicherà a qualunque file che sia eseguibile da Visual Studio Code all'interno della nostra cartella test. Salviamo, chiudiamo e dal menu run facciamo run without debugging. Ok, il file continua anche il path, quindi questo possiamo toglierlo, risalviamo e vedete che stavolta è partito correttamente dal terminale e il programma non dà errore ma funziona. Oh! Grazie.